In queste ore stanno emergendo altri dettagli sulla scomparsa di Road Warrior Animal che ha abbandonato la vita terrena pochi giorni fa, il 22 di settembre. Stando a PW Torch, l'ex wrestler sarebbe morto durante una vacanza in un resort decisa per festeggiare l'anniversario di matrimonio, ovviamente con la moglie. Animal peraltro pare che soffrisse da tempo di problemi di cuore e ai reni, una situazione molto comune ai wrestler della sua generazione cresciuti nell'area di Minneapolis in Minnesota, molti dei quali si sono spenti prematuramente per colpa di un'esistenza vissuta costantemente sulla corsia di sorpasso, fatta di eccessi e di situazioni insomma molto borderline. Prima di chiudere però vorrei sottolineare una bella iniziativa del combattente Al Snow che ha stampato e messo in vendita una t-shirt commemorativa di Animal con il benestare della sua vedova e con tutti i proventi ricavati che andranno a beneficio della famiglia del campione scomparso. Prima di chiudere